no scuola scuola non c'è la fai per via non sta che è stato parlo come fai ma che cazzo sta facendo scusate la condizione discorso parte tutte queste cazate come sei la mia niente mio nono dice niente pantaloni niente guai che l'ha detto peccato voglio maletto peccato che per io da peccato lui stava dicendo niente pantaloni niente guai quindi peccato non ci sta dai avevate lotte coglioni però oppa valla fai dai ma perchè li chiudi ah no no ok rifallo rifallo scusa ma perchè li chiudi scusa ma poi non ho capito che tu non li chiudi per tutti perchè io ho il potere l'ho bravo ma tu lo sai che io me l'ha sognata sta conversazione all'altro Ingenia Ho l'ingadio Ingenia Oh no ah тяжi caldo si venta caldo youtube ma perchè così dannatamente alto al volo di dire nooo si è bloccato si è andato a super veloci tanto caglio ehh? ehhhh ma c'è le bandi con i bottoni tipo si è bloccato di nuovo? no ragazzi si sta bloccando momento più bello no? sta bloccando eh ma forse è più il piede si è bloccato con le mie mani non l'avevo mai vista questa versione non l'avevo mai vista questa versione e che non è più l'altra no questo è spazzabile io lo amo con le pinne ehhh ahahah ha ha ahah orecchia ahia Obaga Obaga Non avevo mai visto questo video Obaga Quando si fuori dall'acqua Che t'ha andato? Ho fatto 4 gradi Ho esploduto tutto Sto facendo un punto Mi canto Gira come tu Ok Purtro no no tutto il pietro di salta non ha letto credo no no dov'è della copp cos'è quelle figurine della copp va bene no ho detto che fatto hai mosso la webna ti speciano invocato tutta una volta come si spegne perchè legge pure il pico devo chiedere perchè mi sta aspettando ah ma hanno fatto il flash mobbinano l'altro giorno ma non è no ci vuole stare no è stato un amato sì sì 40 persone che facevano finte di ballare e gli altri che filmavano così no mi curio io voglio fare no no rock 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 vanno con il televisore edito no no filmavano con l'ipad che hanno portato dentro il bonita per un'altra per filmare ma che stai facendo vediamoci ci sono ci sono ci sono anche di me commenti che ti va bene un nervoso dai ce n'è una fantazio e son un salbotto di gente ho anche una trabellina ma più bella di qui c'è niente di me no allora un'altra st propone propone che cazzo non lo so dai prossimo volta su quella chitarra e cantiamo tutti insieme come ti fa a mettere i video torna tu torna al falò vede pure due cazzo tu che cazzo come ti fa a mettere i video perchè ti metti così ma si tocca pure bene si 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 no per me si è che ha spruzato il computer puttana cristo Dio ma chi chi è già Luca Narcos si no stiamo facendo altro ehm non fa il caso ma chi è aspetta 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 stravita chi è Linus Sebastian è un deficiente che fa le recensione come a lui no sei bloccato mi sa che questo mi ha fatto giro ho messo pausa no no non fanno partire li fanno partire no 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 ma chi è questo coglione è americano canadese 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 arriva alla parte più bella adesso io ci sono du đi con la cazzo di macchina coglune cazzo di macchina a te 6 il titolo ma chi ci dà amore e 5 un amico mio amico mi chiamiamo anche io un gatto di qualche parte forse è chiuso nell'armadio vado a copiare via chat a partire a partire ora ma io a farle arredire nel senso di sicurezza come che si vanno a capito anche se bruffo comunque se le facessi il romanaccio a cavetti miliardi di visualizzazioni oggi forse uno strozzo anche senza parco dio non ti sento il cazzo vedo perché mi ha chiesto che cazzo vai mi chiede le faccia ahahah c'è uno che c'è uno così che ti ferma per sta l'ata che cazzo gli vuoi dire chiuso niente lo abbracci grazie adesso andiamo a dire in giro che sei un chirla io non ti sento più nessuno senza che lo vai a dire in giro già lo sanno cazzo che fai cazzo che fai non bene quindi io quindi sarebbe bello giocare non so morzi o date qualcosa o a parte il film vedendoci si no vedendo quando si reggia allora vedo porco se volete vi ricordo c'era di prima mi diverso po' con la cazzo 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 ahahah dino cane cazzo eeeh l'uomo eeeh lecce l'uomo oh oh l'uomo dico e anche con l'eserlo in punto qui testi no farà la mia figlia intero no questo malboro black per rubato a lavorare non sono mie c'è un ammellai l'epoca ma non è un problema ma non è un gruppo che così si scoprono lavoro quando mi chiamano che scoprono la nata mia peccati c'è un'altra parte maru baro maru baro mario ma io ero che c'è il rocker avvicinati allo schermo per il chiamato c'è detto che è un posto no perchè io lo pari da curio e che ricordi voglio dire che gli italiani sappiamo un po' se ci fa il corso del 20 da me lento stanghiere no, hai visto i miei occhiali? sono anche terzi cristalli passeggiando con un videomusicale partito ma c'è anche Terminator qui guarda guarda le occhiette tu verrai con me credo ma ce lo so portati ma io pure ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho, no, no, no ma allora chi è che sta facendo casino? chi è che sta facendo casino? scusate scusate ti cacciamo cazzo prima prima la musica poi senti che parla ma cos'è? cos'è? piocane e non se si vede anche io ma quella cosa che si mette a posto e anche il porco dio eh che vuoi dire cazzo no ah dolce gabbana cazzo no cazzo no cazzo no cazzo no che cosa li sono qua? guarda la faccia della sana robo coppante la farà di meno finisce si 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 le gara ti guardo 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 quanto fai schifo quello di cazzo è la mia moglie è la mia moglie è la mia moglie è la mia moglie no ci si fa credo però vedo il logo sotto cos'è che sta facendo con la ricca cos'è che sta facendo frutti eh primo video in italiano che ho fatto questo però devo farlo caricare eh no ma devo ancora rendere già lo so chi è giusto ma che bisogna da qui cipolle se il mio no no non 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 che video è ma c'è tutto il 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 l le la pagina la il 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 dove dubbio da inserciza un ok ok ff su tutto scopola x per quanto riguarda forse non è la mia data da un leone per quello dell'olanda anne o trattato con i tutti i peggio caro che c'è perché c'è un leone c'hanno della merda il blu ma io ti vedo l'ordante ero rosa vedono che c'è norma rosa mi vedo normale rossastro come certo picchetto fare faccio ci sarà facciata mangiare un studio per la fila nuovo in modo pezzi di gruppo d se non è un'altra età chi non si tratta non si tratta non si tratta obiettivo qualche cosa no st scuola non c'è la fai c'è la c'è la stacca del parlo come fai che cazzo sta facendo scusate lo condizio discorso ptp ma l'ordine sbagliata scrivere è voluta l'ordine tecchier loco ha fatto un sacco il mondo sono torno 14 per una a i 5 5 5 5 5 5 5 9 un'ora io per ieri per vederli sul pc o messo ho comprato ok siamo in otto ma in realtà siamo in via ma perchè ne vedo 7 basta scusa eh perchè 5 5 5 5 cristo è ma come siamo in otto siamo in 7 perchè siamo in otto chi è all'ottavo eh l'altro l'altro togno ah ma ok 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 ah ecco vi trovo adesso la casa da facebook cos'è stato di figli ehm ma beppe ha risolto se per me beppe 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 dai beppe è bravo beppe è impugnione ma che sta facendo? è trovato? sta litigando sì sì io non sono voglia stasera io non parlo io non ho spianto spiega ma perchè sta qui non parla inizio di camp ma qui non c'è è nato ma non c'è proprio ma non c'è proprio c'è più un po' l'arco l'arco sto d'arco ma con il signor si sa che era qui magari non ve la disturbana la scritta ma che non parli che è beppe scopo dal pendio ma perchè mi andò vado non lo so non c'è impossibile trovare una casa ma se stronti sono tutti su su dei giocatori sono che c'è c beppe o k l'arco è la marx integra 89 e chi qui ci ho fatto che ho fatto che ho fatto che portare l'arco 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 ordine c'è l'arco 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 non so sto più tutto troppo così delle contorte sono su g che soffermare sostracomodo per la per il mistero davide c'è il fatto che sotto non c'è il petto di sotto anche se in piedi ha così comoda eh come tu non fare cosa facci vedere fare cosa la posizione rock eh non ho dovuto tu le merchie no io ho così comoda per fare pesa non c'ho i pantaloni morda si che c'è le pantaloni coglioni e allora vabbè se è stato finito adesso ma lui ecco fa il poser pure introgata no si è mangiato spinaci congelati fino adesso ahahah ahahah ci hai tuttato no 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 stava sbollendo dolendo dolendo non fa niente sbollendo ma qua c'è la mia no no se chiamiamo pepe sul telefono sul telefono sul telefono vai chiamalo 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 io c'ho solo il numero di penne non so nemmeno perché cioè io ho il numero di cellulare di pepe ma io c'è il numero di pepe ma ce l'hanno tutti il numero di pepe ma qua si scoprono gli altarini ma non so perché ce l'ho in realtà non so che me l'ha dato beh forse è bello no non si vede 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 sono un lego in realtà no no ma sono veramente così eh non è che non è la webcam ah ok la webcam è a 1080p rendetevi conto 5 euro per la vita si ma comunque comunque io uso questa webcam come microfono ah ah si rendetevi conto ok che c'è ah ecco l'altro gli ha preso ho quella che ho preso sulla lampada infatti l'ha sposto perchè l'ha sposto la lampada no ingegnoso cazzo guarda l'ha sposto la lampada la camera di lord se mi sta al cerne tutti i cavi d'oltre parti si si è vero adesso non posso mostrare facci vedere un po' fuori le montagne i cari gradi c'è stato un corso non so da voi ma qui è la notte non so 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 8 ore indietro 8 ore indietro 28 è il mio compleanno si cambia l'ora eeeh sconfusse nel mondo che bisogna oggi cambiare l'ora capito ahahah che poi è un'ora in più di dormo che cosa c'è un giro completo della stanza non ho visto rifai no no c'è il porto di jesuv bambino sottostante è entrata la roia stana allora si parte si parte da qua bene il giro interattivo della casa oh oh allora 47 col dolby perchè non si ha girato con 90 cose 5 infatti forse user disconnected from your channel vai affaculo c'è la cucchia del cal cazzo di capo di merda va porco qua c'è ma sempre ti fa col filo ti trova di tanto ma c'è una banca del 6 c'è una banca del 6 c'è una banca del 6 cento che ci butta in tutta la rumenta ma chi è che sa farla ma perchè c'è che io perchè 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 l'altra porta che erano due istanti questa c'è il lettone il lettone il lettone prendo appunti aspetta ridimmelo aspetta quello è il lettone termine scusami si il lettone si e poi c'è qui c'è qua c'è una garagnata ogni volta è alti no no è fuori non si vede e qua c'è il muro è fuori è fuori e non si vede cosa ma qual è e questa e questo è oh totogno questo è il muro del piano la busta di dai si si ma ma si si mi il co il mal di mare comandata metà a ma la mia metà è casa sua ragazzo il che tra quanto cazzo di roba chai sul muro sono tutte le parole di lode i premi ma perché se io credisco parole di l'orda diminuisce interno ho due no no un incontro un incontro non 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 si abbattuto perchè fai su una ghiappa che si non 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 posso fare altrimenti ma sarà se gli fai una foto il video è uguale perchè è bloccata che bloccata ma ma sto cercando di seguire ma non ci sto capendo niente porco dio sono arrivato con un po' di forza eccessiva ho detto che sei qualcuno di roghi oh oh ma io volendo posso fare così wow adesso vedo grande cazzo si c'è così vediamo se si riesce a vedere sul portatile no non si vede niente lasciamo stare ho allargato tutta la finestra con ecco pinch to zoom così guarda pinch to zoom ecco una discussione tipica marmiana vediamo che cazzo furla come cazzo è che c'è il cioccolato in mezzo alla tastiera vedi guarda pure la disacchia rimane bloccata perchè rimane bloccata ma è tutto il punto è che non è bloccata no non è bloccata è lei che è tua è così vive a scatti Sara va a 6 fps al secondo guarda fare un upgrade della scheda che vedo fa troppo lento che cosa? c'è rimasto tipo così in quarto d'ora guarda guarda fai stare fps al secondo no non ho capito ti rimasto ferma e? vai a ratti ti muovi a rally ti muovi a rally stavo parlando a lei mamma ma mamma vabbè sei fermata così mezz'ora pensavo che avessi tornato una parata ok 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 ecco io sono un altro e eh e vi rompe tutto perchè da rompe cose fatta apposta di ocani apposta st tasti orco dio non è venuto a ora muore staccato la cascata è stato posto per tutti gli stanchi perchè per curirla che cazzo ma poi c'è anche qua ma a che serve arco cambia a fare tirla non vedete come guarda di cambiare il video c'è a due anni e quelli da pioggia c'è il cazzo di cambiare c'è l'eterno perché c'è la tastiera da madonna mia ah ma poi puoi mettere l'app beh c'hai il sole orco dio no ho messo la al posto della s ma invece la tastiera riuspiga ce l'abbiamo io il lord hai visto quarto a fratelli di tastiera che cazzo è da trust mi si chiama certo che da trust aspetta tastino al mio 3 aspetta lo stai aspetta che non trovo il tastino cosa tastino che tastino 1 2 3 eh 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 grande è morto è morto ha sparito è seduto un bel in verità il vero il testino 85 non è piuttosto ogni 85 no mi sei durissutato il telefono cacca non avete capito se sei riavviato no ah no c'è la batteria scarpica scarpica per il continuo per contatto facciamo partitino la carta